33 anni di Proloco, di cui 10 guidati dal Presidente Claudio Banna Macario. 33 anni di Proloco e in questi 13 anni della mia Presidenza, a cui ringrazio enormemente tutti i membri del Consiglio Direttivo che mi sopportano e mi supportano. Grazie anche all'amministrazione comunale che anche loro ci supportano e ci supportano e soprattutto grazie anche al Presidente del Consiglio Comunale, che nonostante che l'amministrazione non sia stata invitata perché abbiamo voluto fare una cosa così minimale, ci hanno dato comunque della sua presenza facendosi sentire comunque vicini alle istituzioni. Grazie ancora a tutti quelli che ci sono vicini, grazie a tutte le associazioni che ci chiedono aiuto e ci danno la possibilità di aiutarli collaborando ai loro eventi con grande piacere e con grande orgoglio. Grazie ancora a tutti. Lunga vita quindi alla Proloco il suo Presidente Claudio Banna Macario, che da 10 anni ci offre uno spaccato delle attività portate avanti dall'associazione, sempre presente sul territorio. Come ogni anno abbiamo deciso di fare la benedizione dei laberi che rappresenta la benedizione dell'attività annuale della Proloco, perché come vogliamo ricordare è nata nel 1987, il 31 gennaio, ed era la data più vicina e soprattutto abbiamo avuto anche il piacere di consegnare una targa, nominandolo consigliere onorario al signor Trombetta Antonio, che per tanto tempo ha rappresentato un punto fermo nella nostra associazione, sia come tecnico, che come ideatore, che come artista, e soprattutto come amico e persona che ha saputo condividere il nostro spirito e i nostri ideali. Grazie.